Amici del grande calcio, bentornati su senza giri di parole, io sono Biazzaco e io sono Tazzona Ritorna la serie A, ritorna il main event della serata con Roma-Milan, è finita 2-1 Adesso approfondiamo, prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che carichiamo Se il video vi piace lasciate un like e un commento, soprattutto sulla partita Allora Tazzu, prima di cosa, domanda iniziale, ti è piaciuta la partita? Alle persone come me a cui piacciono queste partite, alla italiana sì, però non è stato esattamente un bel vedersi calcistico Perché è stato quel tipico scontro diretto che abbiamo noi in Italia in cui non si gioca, ma ci si prende ammazzate in campo Nella speranza di perdere il maggior numero di tempo possibile, soprattutto nelle situazioni come queste Dove c'è una squadra che segna relativamente all'inizio della partita e quindi cerca di protrarre il più possibile il risultato Però tatticamente è stata una partita soddisfacente Tatticamente è stata davvero soddisfacente poi perché quando l'elemento fisico viene meno, come in questo inizio di stagione un po' per tutte Perché giustamente la preparazione è stata fatta nel lungo Devi compensare in qualche modo e le squadre italiane a compensare a livello tattico sono molto bravi Quindi sì, però capisco a chi non piaccia questo tipo di partite Allora, nel primo tempo abbiamo visto subito un Milan voler dominare Infatti l'ha fatto, fino all'espulsione poi ci arriveremo Il Milan ha praticamente dominato il possesso valla e la Roma ha a volte accennato il pressimo proprio accennatissimo E ha voluto fare più una gara d'attesa per poi ripartire con Belotti ed Asciarawi Diciamo che non ha tanto funzionato Poi la gara si è messa subito in salito perché il Milan trova il gollo grazie al calcio di rigore Adesso possiamo parlarne Sinceramente l'episodio è particolare Però io l'avrei fischiato il rigore, ti devo dire la verità Perché comunque il piede, la spiegazione di Marelli ha senso fino ad un certo punto Perché comunque il piede Rui Patrizio lo mette Pure se non vede l'avversario e vede solo il pallone Comunque lo mette e Loftus-Cheek stava a porta vuota Cioè ha salvato un gol con quell'intervento Pure se è involontario Comunque per me devi essere punito C'è poco da fare A me l'unico punto critico è che questo rigore avviene proprio nella stagione in cui ci hanno detto Che non ci sarebbero stati rigori non definitivi Perché pare veramente che ormai lo stiano facendo apposta E pare davvero che stiano di proposito rifiutando le direttive di Rizzoli Che per me va bene, per me va benissimo, me ne frega niente Però fa sorridere perché quasi come se lo stessero facendo apposta Abbiamo detto non vogliamo rigori che non siano indiscutibilmente rigori Ma in queste prime tre giornate c'è una pletora di rigori che hanno fatto discutere E che faranno discutere Vabbè comunque con il rigore poi ovviamente Ciru si presenta sul dischetto Segna per l'ennesima volta che non è mai banale Bel rigore, la partita si mette in salita per la Roma e in discesa per il Milan Quello era lo scenario peggiore per la Roma Perché la Roma la gioca tutta sul tenere il risultato in bilico E cercare di fare una partita da sacrificio Quindi questo l'ha proprio rovinata la partita da Roma Infatti dopo il gol la Roma ha perso anche quelle pochissime cose buone che aveva fatto prima del gol Il Milan ha giocato sul velluto Abbiamo visto un grande love to stick, mi è piaciuto tantissimo Abbiamo visto Krunic in palla Reinders eccezionale Pulisic non lo mantiene Leao fa sempre quello che vuole E la Roma il primo tempo l'ha giocato tutta così Rincorrendo i giocatori del Milan Accennando con qualche contropiede Qualche sponda di Belotti Però troppo isolato Non è riuscito a fare granché Secondo tempo Arriva praticamente l'ennesima svolta Perché Pronti via Crossi in mezzo di Calabria Leao si coordina C'è una rovesciata particolare Perché sfrutta il fisico di Celic Per appoggiarsi e coordinarsi E la prende magicamente bene Cioè è complicatissimo Mettere la palla in quel modo Ed è pure la bravura E anche un pizzico di fortuna di prendere palo gol Imparabile Bel gol La sfida Celic Leao è stata accesa Ma penso L'ha vinta Leao Tipo 6 a 1 Perché qualche volta Celic è riuscito a fermarlo Ma Leao l'ha proprio ridicolizzato È stata una scelta pure voluta Da Murigno Che ha scelto Celic Che non aveva ancora giocato Fino a questo momento Proprio per affrontare Leao Che si conoscevano dai tempi del Lille Non ha funzionato Assai sta strategia Per niente Dopodiché Dopo il secondo gol L'ennesimo episodio Che va a cambiare la partita Tomori Che già doveva essere cambiato Per un'ammunizione Che sempre su Belotti Per un anticipo un po' scomposto Va a prendersi Secondo l'ammunizione Che secondo me ci sta Perché Va proprio a fermare Un'azione Che poteva Concretizzarsi In gol Ed è l'ammunizione Proprio da regolamento Espulsione Da lì in poi Per assurdo Si era riaperta la gara Ma non è stato così Io credo che in realtà Allora Qui devo strappare una pagina Dal libro di Ezio Capuano Vai Permettetemi Che ai tempi della Rizzo Disse una cosa Che per me Tutt'ora rimane Molto intelligente E che molti sottovalutano Cioè quando tu sei una squadra Come la Roma Ma anche come la Rizzo Di Ezio Capuano Cioè squadra tutta aggressiva Che gioca prettamente dietro Per cercare di far giocare Ma è l'avversario E approfittare Di quello che ti lascia Quando un avversario Subisce una espulsione Perché è un problema Perché poi ad attaccare Devi essere tu Perché l'avversario si abbassa Quindi già Il Milan Non aveva nessuna intenzione Ma giustamente Il Milan ha fatto benissimo A sprecare energie Non aveva intenzione Di sprecare energie Per aggredire la Roma Quando stava vincendo 2-0 Ma poi quando si verifica Pure l'espulsione Ovvio che mi abbasso Perché devo rischiare Il meno possibile Ma per la Roma Questa è la morte E molto difficilmente La Roma avrebbe segnato Senza quel Quel fortunoso gol Fatto da Spinazzola Dal rimpallo Del gol Del tiro di Spinazzola Quindi In realtà poi La strategia del Milan È azzeccatissima E quindi devo dire Magari per quelli Che sostengono Minchia La Roma Neanche in 10 È riuscita No ma soprattutto La Roma in 10 Non sarebbe riuscita E non è riuscita A indirizzare La partita A suo vantaggio Perché questa partita È stata disastrosa Dal punto di vista Tattico Per la Roma Perché la Roma Non è adatta A partite di questo tipo Però attenzione Questo non toglie niente Al Milan Perché il Milan Si è costruito La capacità Di mettere in difficoltà La Roma Sul suo campo Perché la Roma È costruita Proprio per fare in modo Che gli avversari Segnino Meno probabilisticamente Possibile Così che loro Protragano il risultato Della gara Il più possibile Cosa che peraltro Noi sappiamo bene Perché per esempio Noi vinciamo sempre Se vinciamo Con quell'1 a 0 Stream in sito Con la Roma Perché la Roma La Roma Protrae il Parigi Il più possibile Quindi Gloria al Milan Per esserci riuscito Lì si sono visti I limiti Della Roma Perché quando il Milan Si è schiacciato La Roma Con un palliggio Abbastanza lento E macchinoso A stento Riusciva a superare La metà campo E l'unica idea E quella La grande differenza Tra le due squadre Che quando attaccava il Milan Il Milan aveva un'idea Quindi la sua idea Di fare Dei determinati movimenti Delle determinate azioni Studiate Perché ogni giocatore Ha la propria personalità E queste cose Si combinano E si va a creare L'identità del Milan Offensiva L'identità della Roma Invece offensiva Parte quando c'è Di Bala in campo E' tutta E' tutta indirizzata Nel cercare L'errore dell'avversario E magari aspetti Che esca Che ti lascia Degli spazi Ma se l'avversario Non ti lascia niente Tu niente raccogli Proprio zero E quello abbiamo visto La Roma Le azioni più pericolose Che hanno fatto Dopo che sono finiti In superiorità numerica Dei cross Tra prendesi Tutti in mano a magnone Tutti sbagliati Gli amici romanisti Sicuramente Avranno sofferto Tantissimo A vedere Cross Sempre sbagliati Mai di prima Mai tesi Sempre morbidi Verso L'area alta piccola E quelle Sono tutte del portiere Anche quando è entrato Lukaku Che comunque È entrato abbastanza bene A me Ha dato la carica Si sono gasati Ma Purtroppo Quanti palloni Giocabili Sono arrivati A Lukaku In area di rigore Cioè Proprio pochi L'unico modo In cui si è Resto utile Lukaku Stasera È con La difesa Del pallone Magari Ha allargato Qualche pallone Ma sempre Sugli esterni Siamo andati Tra Zeleschi E Spinazzola Pure nel secondo tempo E Selic O crossavano O Alla fine Spinazzola Ha cercato Quella conclusione Che pure quella Almeno È una cosa Cioè Io sono Io sono dell'idea Che quando poi Ti ritrovi a Dover giocare Contro un muro Perché il Milano A un certo punto Era diventato un muro Tu devi provare Le cose più difficili Che la difesa Possa difendere Quindi O fai cross Tesi E forti Non quelle Che arrivi sul fondo E poi crossi No no Devi crossa di prima Da fuori area E cercare Delle traiettorie killer Oppure Devi tirare Come viene viene Tanto hai visto Che cosa può succedere Una deviazione E segni Ma ti rendi conto Che la Roma Da quando è finita In superiore A numerica Ha fatto un tiro Ha giocato più di mezz'ora Più di mezz'ora Con un uomo in più Un tiro ha fatto Quello di Spinazzola E poi per la partita Che dicevamo Che stesse facendo La Roma Un altro elemento Che l'ha uccisa Definitivamente È stato L'infortuno di Awar Perché Awar Era il giocatore Che si stava prendendo Più rischi in assoluto Nel giocare la palla Nel cercare Di imbucare E quando Si è andata Awar Di fatto Il giocatore più Verticale della Roma È diventato Celic Con i cross E quindi Pure quello È diventato Un elemento Che ha ammazzato La Roma Ma ci sta Ci sta che sia così Ma poi Il Milan È una squadra Forte Anche per questo motivo Quando si ritrova In inferiorità numerica Tra Teo Leao E Pulisic E pure quelli Che sono subentrati Cioè Sono tutti giocatori Che individualmente Sono forti Quindi Possono giocare Da soli Fanno reparto Da soli Cioè Leao Un'altra cosa Si dribla E ta difesa La Roma È stata Praticamente Abbastanza Fortunata La Roma In alcuni interventi Su Leao Teo A un certo punto Gli hanno Gli amogli Arriva la lettera Perché Ha superato I limiti Di velocità Secondo me L'unica cosa Di cui ci resta Di parlare In maniera Abbastanza Anche convincente È che Il Milan Tutto sommato Non esce Glorioso Da questa Vittoria Cioè Una vittoria Che dà soddisfazione Anche per come è arrivata Non soffrendo Perché la partita Si poteva mettere male Nei peggiori Incubi di un tifuso Però è comunque Una vittoria Con qualche ombra Di troppo In particolare Il fatto che Il Milan Con tutte queste Queste difficoltà Che abbiamo descritto Della Roma Per fermarla Ha avuto molto più difficoltà Di quello che ci si potrebbe aspettare In particolare Un aumento vertiginoso Dell'aggressività Che poi è stato Quello che fondamentalmente Ha portato All'espulsione Anche piuttosto stupida Da parte di Tomori Ma Tomori È stato uno Dei problemi Una delle rappresentazioni Di questi problemi Il Milan Ha fatto 16 falli Capisco perché sia successo Che ribadisco La partita era quella Era una partita Alla italiana Però Il Milan Che è una squadra Molto qualitativa Che poi si sia dovuta Piegare a questo tipo Di gioco Per cercare di rispondere Alla Roma Che comunque aveva Tutti i problemi Nel caso Nella costruzione Del gioco E che era chiamata A dominare il campo Cosa che è una cosa Che non è abituato a fare A meno che non stia Contro un avversario Molto più scarso Di lei Secondo me deve far riflettere Un po' Pioli Perché La sua squadra Ha perso Troppo mordente tecnico A un certo punto E ha puntato tutto Sull'esplosività fisica Che peraltro È stato un problema Della scorsa stagione Però magari Quest'anno Sarà meno un problema Perché Una cosa che è mancata Al Milan L'anno scorso E che potrebbe non mancare In base a quello Che abbiamo visto Finora Era la giocata Del singolo Che ti risolveva Sempre la partita Perché Leao Per alcuni tratti L'anno scorso Era mancato Quest'anno invece Ci sono tanti calciatori Che sembrano avere Quella verve Che è in grado Di fartela cambiare Su tutti i Pulisic E Giroud In grande forma È lo stesso Leao Che sembra anche Un po' rinato Per cui Vediamo Però Io qualche ombra La getto Su questa vittoria Del Milan Non è stata Convincente Come secondo me Avrebbe dovuto essere In base a quelle Che erano le condizioni Della Roma È anche vero Che però C'è un Milan Prima dell'espulsione Un Milan dopo l'espulsione Questo c'è da dire Perché il Milan Prima dell'espulsione Ha fatto un dominio Glamoroso E qui falli Il numero di falli È cresciuto tanto Quando poi Si sono ritrovati Con uno in meno Quello È da Da considerare Va bene ragazzi Questa Questa Questo post partita Finisce qui Fateci sapere Cosa ne pensate voi Con un commento Se il video è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi E noi ci rivediamo In un prossimo video Viva il calcio Come sempre Viva il calcio